Assessore Cavattoni, i dinosauri sono arrivati a Padova? Siamo molto orgogliosi di dire che i primi due tir che hanno cominciato a scaricare appunto i reperti provenienti dall'Argentina sono arrivati a Padova ieri notte e questa notte invece termineranno il lavoro con altri due tir. Questa è la portata e le dimensioni, tanto per far capire, dei reperti che andranno in mostra al San Gaetano dall'8 di ottobre nella mostra Dinosauri giganti dall'Argentina. Per fare due esempi avremo il più grande dinosauro mai apparso sul nostro pianeta che misurerà 37 metri dalla testa alla coda e anche il più grande carnivoro mai apparso sul pianeta detto appunto Gigantosaurus che era lungo fino a 17 metri e pesava 10 tonnellate per fare un paragone più grande del più famoso Tyrannosaurus Rex. Ecco una mostra che sull'antichità insomma tanti anni fa però che ben si sposa anche con la tecnologia perché tantissime sono le novità appunto tecnologiche legate a questa mostra. Assolutamente sì, noi abbiamo voluto che questa mostra oltre ad essere dal punto di vista scientifico la più importante mai effettuata in Italia che riguardi il periodo della permanenza dei dinosauri al mondo e quindi 150 milioni di anni è anche una mostra che vuole essere come si usa dire oggi più leggibile, più smart possibile. Tantissime le iniziative, un utilizzo intelligente ma massivo della tecnologia chi visiterà la mostra potrà utilizzare tutti i nuovi strumenti della tecnologia dai touchscreen a schede tematiche computerizzate e soprattutto tutta una serie di eventi due giorni a settimana per il momento, il mercoledì e il sabato la mostra sarà aperta fino alle 22 e all'interno di questa mostra noi abbiamo voluto rendere tangibile la città di Padova come città, oltre che di Giotto, Giusto de Menabuoi, Guariento, Galileo, Galilei la città dei dinosauri, si potrà cenare nella cornice dei dinosauri si potrà bere l'aperitivo mentre si osservano reperti di 100 milioni di anni fa e soprattutto si potrà anche giocare con i dinosauri attraverso nuove applicazioni che all'inseguimento del dinosauro stesso daranno la possibilità di riscoprire i luoghi simbolo della città non soltanto per i padovani che li conoscono già ma soprattutto per i turisti.